Ma stiamo bene, soprattutto grazie all'ultima partita che ci ha ridato fiducia, entusiasmo. L'abbiamo affrontata per ricercare questo e l'abbiamo ottenuto perché arrivare a preparare questa partita così importante con una testa e con un atteggiamento positivo secondo me era fondamentale. La partita di campionato ci ha ridato tutto questo, i ragazzi stanno bene, siamo in tanti a disposizione, quasi tutti e siamo pronti per questa partita, partita che sappiamo tutti dell'importanza, come dice Nico, per noi, per Firenze, per tutti perché sarebbe straordinario proseguire, sappiamo delle difficoltà ma siamo pronti a battagliare. Zola, come avevo detto, fine partita, da ieri è ritornato in gruppo, ha avuto tra virgolette questi problemi e adesso è a disposizione, domani farà parte di questa spedizione semifinale. Quindi, come ho detto, siamo tutti a disposizione, questa cosa mi fa piacere perché nei finali di stagione e nel momento in cui hai queste partite ravvicinate, avere la Rosa a disposizione al completo è importante. È importante perché, avete visto, si gioca ogni tre giorni, fatica a recuperare, fatica ad essere sempre tutti al 100%, quindi più siamo e più possiamo fare prestazione. Che in questo momento qua non ha voci, se ne sentono di tutti i colori, vengo accostato a destra e a sinistra, mi fa piacere perché vuol dire che non si sta lavorando male, però la concentrazione penso sia giusto. Questo è per questo finale di stagione, è una semifinale importante, un campionato, ultime cinque partite da affrontare nel migliore dei modi e credo che pensare a questo è un modo per finire in maniera importante questo campionato per quanto riguarda la Serie A e questa competizione che ci vede ancora una volta arrivare fino in fondo. La concentrazione è solo su quello, per il resto tutte chiacchiere che non mi spostano di un millimetro da quello che è il lavoro insieme ai ragazzi.